Allora per risolvere il problema dei rifiuti dobbiamo risolvere il problema della politica che sui rifiuti ci ha vissuto per 50 anni, ancora con Gava, con le discariche. Discariche e inceneritori sono la manna della politica di oggi, abbiamo interrotto questo cortocircuito, abbiamo fatto cortocircuito, i rifiuti non si devono produrre, si devono produrre molto meno, usa e getta col sistema fiscale, vedremo come, ma ci sono delle cose, delle tecnologie oggi già in vigore, a Barcellona c'è uno dei più grandi separatori di immondizia, non brucia niente, separa le materie prime e secondarie e vende alluminio, carta, vetro, plastiche, tutto così, potrebbe essere una risorsa, prendiamo un impianto così, lo mettiamo a Roma a sud, ne prendiamo un altro a Roma a nord, fanno 1.500 tonnellate, 2.000 tonnellate a testa e risolviamo finalmente il problema dei rifiuti di Roma, per favore, bisogna fare così, perché andare avanti con discariche e inceneritori, che già l'Europa nel 2020 ci dice che non si potranno più fare, vuol dire sotterrare, bruciare, vuol dire che ce li mangeremo, ce li respireremo e ce li odoreremo per 20 anni, allora basta, affrontiamo la politica nel suo core business che è il rifiuto, mafia e politica vanno d'accordo e si uniscono sul rifiuto, è su questo che dobbiamo fare la nostra lotta, grazie a tutti. Grazie a tutti dal vostro Grillo Mannaro, che oltre ad essere responsabile delle varicelle e di tutte le malattie possibili, ha abbassato il grado di informazione in questo Paese e adesso ha alzato lo spread. Arrivederci dal Grillo Mannaro, lo sapevo che arrivavano a questo, lo sapevo.